...è il reparto che prepariamo. Issa! ... Siamo molto contenti di dare il nome di Don Franco al reparto maschile perché non solo è un grande onore ma è anche molto simbolico perché senza Don Franco non saremo qui con questi fazzolettoni al collo. Inoltre queste amicizie non si sarebbero mai create grazie a lui. Siamo diventati una grande famiglia. Ci vogliamo un mondo di bene. Don Franco dal reparto. Tutte le uscite sono importanti per noi scout ma questa dei passaggi è uno dei momenti più speciali dell'anno scout perché ricco di emozioni non facili da descrivere. Si salutano compagni di strada a cui siamo affezionati e con cui abbiamo condiviso nuotate, cacce, avventure, pezzi di vita. Accanto al dispiacere del distacco c'è anche la curiosità nei confronti dei nuovi che arrivano fratellini e sorelline più piccoli che siamo chiamati ad accogliere e a cui cerchiamo di stare accanto perché un pochino spaventati e spaisati per il cambiamento. Quest'anno si aggiunge un'emozione in più del tutto nuova ma molto forte. Iniziamo il nostro trentanovesimo anno associativo senza il nostro caro Don Franco. Manca a tutti noi e gli saremo per sempre grati per aver permesso al seme dello scautismo di germogliare e crescere a Villapigna. È con il cuore gonfio di commozione che intitoliamo a lui il reparto maschile che da oggi sarà per sempre il reparto Don Franco Petrucci. La cosa ci emoziona non poco ma quello che più ci riempie di orgoglio è che l'idea di cambiare il nome del reparto è nata proprio da alcuni ragazzi e ragazze del reparto. Grazie ragazzi per il vostro cuore grande per la profondità che ci avete dimostrato e per la maturità che vi ha permesso di capire l'importanza che ha avuto e che continua ad avere Don Franco per noi. Siamo certi che dall'assù lui prega sempre per ciascuno di voi e di noi. E a questo punto recitiamo un Ave Maria come lui ci ha sempre raccomandato di fare. Allora come vi abbiamo detto ieri purtroppo noi scout siamo di cuore grande ma a volte ci organizziamo male quindi la famiglia di Don Franco l'abbiamo avvisata un po' tardi e quindi per quello stiamo facendo un video perché gli abbiamo promesso il video poi il primo sabato che sarà possibile a tutte e tre nipoti venire verranno a trovarci nelle sedi perché volevano ringraziarvi di persona per questa cosa. quindi adesso mettiamo il nome sull'apriamo e quindi la famiglia di Don Franco e quindi la famiglia di Don Franco bene questa è una cosa bellissima grazie a tutti